Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo re vivo in mezzo a noi, alleluia. Noi vi sorgiamo insieme a Lui, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, anche in questa domenica ci raggiunge il saluto di Gesù risorto. La pace sia con voi. E come ci ha aiutato a riflettere il canto di inizio, Egli vive in mezzo a noi e noi risorgiamo con Lui. Questa celebrazione dell'Eucarestia, questa celebrazione domenicale vuole riaffermare con forza ancora una volta questa realtà. Gesù è vivo ed è presente nella sua parola, è presente nella sua parola, è presente nell'Eucarestia, anche se per la maggioranza di noi anche questa domenica sarà una Eucarestia soltanto spirituale. E' presente in mezzo a noi, nei fratelli e nelle sorelle, con cui stiamo condividendo questo periodo. Può succedere a noi, come ai discepoli di Emmaus, di cui ci parlerà il Vangelo, di non riconoscerlo. Può succederci di avere gli occhi impediti a riconoscerlo nella parola, nell'Eucarestia e anche nei fratelli e nelle sorelle. Chiediamogli la grazia di fare la stessa esperienza dei discepoli di Emmaus, l'esperienza che i nostri occhi si aprano e l'esperienza del riconoscimento della sua presenza in mezzo a noi. Nel rendimento di grazie, per questa certezza, al Signore vogliamo presentare le nostre preghiere, la nostra vita e anche la nostra fragilità, perché egli la prenda insieme con i nostri peccati e li cancelli, affinché possiamo essere creature nuove, dei risorti, per poter riprendere il cammino in una luce nuova, con una nuova consapevolezza. Per poter celebrare più degnamente questa Eucarestia, per poter vivere da risorti la nostra esistenza, chiediamo perdono al Signore di ogni nostro peccato. Pietà di noi, Signore! Contro di Te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. E donneci la Tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà! Signore, pietà! Cristo, pietà! Cristo, pietà! Signore, pietà! Signore, pietà! Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Gloria, gloria, in eccelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno, memoriale della Pasqua, raccogli la Tua Chiesa pellegrina nel mondo, Donaci il Tuo Spirito, perché nella celebrazione del mistero eucaristico, riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto, che apre il nostro cuore all'intelligenza delle scritture, e si rivela a noi nell'atto di spezzare il pane. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli Al giorno di Pentecoste, pieno con gli undici, si alzò in piedi, a voce alta parlò così. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio, presso di voi per mezzo di miracoli e prodigi segni che Dio stesso fece tra voi per opera sua. Come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo Contemplavo sempre il Signore innanzi a me Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua E anche la mia carne riposerà nella speranza Perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi E ne permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione Mi hai fatto conoscere le vie della vita Mi colmerai di gioia con la tua presenza Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente Riguardo al Patriarca Davide Che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro È ancora oggi fra voi Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente Di far sedere al suo trono un suo discendente Previde la resurrezione di Cristo e ne parlò Questi non fu abbandonato negli inferi Nella sua carne subì corruzione Questo Gesù, Dio, lo ha risuscitato E noi tutti ne siamo testimoni Innalzato dunque alla destra di Dio E dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso Lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Mostraci, Signore, il sentiero della vita Mostraci, Signore, il sentiero della vita Protegge, mio Dio, in Te mi rifugio Ho detto al Signore Il mio Signore sei Tu Il Signore è mia parte di eredità e mio calice Nelle Tue mani è la mia vita Mostraci, Signore, il sentiero della vita Il Signore che mi ha dato consiglio Anche di notte il mio animo mi istruisce Io pongo sempre davanti a me il Signore Sta alla mia destra, non potrò vacillare Mostraci, Signore, il sentiero della vita Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima Anche il mio corpo riposa al sicuro Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi Ne lascerai che il tuo fedele veda la fossa Mostraci, Signore, il sentiero della vita Mi indicherai il sentiero della vita Gioia piena alla Tua presenza Dolcezza e senza fine alla Tua destra Mostraci, Signore, il sentiero della vita Dalla prima lettera di San Pietro l'Apostolo Carissimi, se chiamate i padri colui che senza fare preferenze Giudica ciascuno secondo le proprie opere Comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui Vivete qua giù come stranieri Voi sapete che non apprezzo di cose effimere E come argento e oro Foste liberati dalla vostra vuota condotta E ridetata dai padri Ma con il sangue prezioso di Cristo Agnello senza difetti e senza macchia Egli fu predestinato Già prima della fondazione del mondo Ma negli ultimi tempi Si è manifestato per voi E voi per opera sua Credete in Dio Che ha risuscitato dai morti E gli ha dato gloria In modo che la vostra fede E la vostra speranza Siano rivolti a Dio E parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Signore Gesù Facci comprendere le scritture Ardi il nostro cuore Mentre ci parli Alleluia 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 Il Signore sia con voi E con il tuo spirito Dal Vangelo Secondo Luca Gloria a te O Signore Ed ecco In quello stesso giorno Il primo della settimana Due dei discepoli Erano in cammino Per un villaggio Di nome Emmaus Distante circa undici chilometri Da Gerusalemme E conversavano fra loro Di tutto quello Che era accaduto Mentre conversavano E discudevano Insieme Gesù in persona Si avvicinò E camminava con loro Ma i loro occhi Erano impediti A riconoscerlo Ed egli disse loro Che cosa sono Questi discorsi Che state facendo Fra voi Lungo il cammino Si fermarono Con il volto triste E uno di loro Di nome Cleopa Gli rispose Solo tu sei forestiero A Gerusalemme Non sai Ciò che vi è accaduto In questi giorni Domandò loro Che cosa Gli risposero Ciò che riguarda Gesù Il Nazareno Che fu profeta Potente In opere E in parole Davanti a Dio E a tutto il popolo Come i capi Dei sacerdoti E le nostre autorità Lo hanno consegnato Per farlo condannare A morte E lo hanno crocifisso Noi speravamo Che egli fosse colui Che avrebbe liberato Israele Con tutto ciò Sono passati Tre giorni Da quando Queste cose Sono accadute Ma alcune donne Delle nostre Ci hanno sconvolto Si sono recate Al mattino Alla tomba E non avendo Trovato il suo corpo Sono venute A dirci Di aver avuto Anche una visione Di angeli I quali affermano Che egli è vivo Alcuni dei nostri Sono andati Alla tomba E hanno trovato Come avevano detto Le donne Ma lui Non lo hanno visto Disse loro Stolti E lenti Di cuore A credere In tutto ciò Che hanno detto I profeti Non bisognava Che il Cristo Patisse Sofferenze Per entrare Nella sua gloria E cominciando Da Mosè E da tutti I profeti Spiegò loro In tutte le scritture Ciò che si riferiva A lui Quando furono Vicini al villaggio Dove erano diretti Egli fece Come se Dovesse andare Più lontano Ma essi Insistettero Resta con noi Perché si fa sera E il giorno È ormai Al tramonto Egli entrò Per rimanere Con loro Quando fu A tavola Con loro Prese il pane Recitò La benedizione Lo spezzò E lo diede loro Allora Si aprirono gli occhi E lo riconobbero Ma egli Sparì Dalla loro vista Ed essi Dissero L'un l'altro Non ardeva Forse in noi Il nostro cuore Mentre egli Conversava Con noi Lungo la via Quando ci spiegava Le scritture Partirono Senza indugio E fecero Ritorno A Gerusalemme Dove Trovarono Riuniti Gli undici E gli altri Che erano Con loro I quali Dicevano Davvero Il Signore È risorto Ed è apparso A Simone Ed essi Narravano Ciò che era Accaduto Lungo la via E come Lo avevano Riconosciuto Nello Spezzare Il pane Parola Del Signore Lode A te O Cristo Dopo L'esperienza Di Maria Maddalena Di Pietro E di Giovanni Del giorno Di Pasqua Dopo L'esperienza Di San Tommaso Domenica Scorsa Oggi Il Vangelo Cari Fratelli E care Sorelle Ci presenta L'esperienza Dei discepoli Di Emmaus Due Del gruppo Due Vicini A Gesù E agli Apostoli Due Che avevano Creduto In Gesù Che si erano Fidati Di Lui Che avevano Scommesso Su di Lui Tanto Da lasciare Il loro Villaggio E andare Con Gesù Verso Gerusalemme E sì Perché Il Vangelo Di Luca Voi lo sapete È costruito Intorno A un viaggio Un viaggio Fatto di Tante tappe Che man mano Avvicinano Coloro Coloro Che camminano A Gerusalemme Un viaggio Che porta Gesù Gli Apostoli I discepoli Chiunque Vuole seguire Gesù Proprio lì A Gerusalemme Nella città Santa È lì Che il disegno Di Dio Il progetto D'amore Di Dio Il progetto Della salvezza Si sarebbe Realizzato Lì Gesù Avrebbe Patito Sarebbe Morto E lì Però Sarebbe Risorto Lì Gesù Avrebbe Inviato Lo Spirito Che Riempiendo La mente Se il cuore Degli Apostoli E dei discepoli Avrebbe Fatto Di essi Gli annunciatori E i testimoni Della salvezza Ora Questi discepoli Di Emmaus Se ne stanno Andando Da Gerusalemme Hanno Voltato Le spalle A questa Città In cui Il progetto Della salvezza Si è realizzato Il disegno Dell'amore Si è compiuto Hanno Detto È tutto Finito Ci siamo Sbagliati Abbiamo Affidato La nostra Esistenza A uno Che ci aveva Fatto Sognare Ma I sogni Sono morti All'alba Del terzo Giorno Per cui Coniugano Il verbo Sperare Soltanto Al passato E All'imperfetto Ci dicono Gli studiosi Che L'imperfetto È Il tempo Delle cose Definitive Quelle che non Cambieranno Mai Dire perciò Da parte Di questi Discepoli Noi Speravamo Significa Dire Non c'è più Niente Da fare Ci siamo Sbagliati Non solo Per un Momento Ci siamo Sbagliati Per sempre Significa Dire Da parte Di questi Discepoli La nostra Vita Non ha Significato Significa Dire Da parte Di questi Discepoli È meglio Vivere Giorno Per giorno Senza Fare Progetti Cercando Di fare Il meglio Possibile Per se Stesso Senza Coltivare Né sogni Né speranze Noi Speravamo Una speranza Davvero Di corto Respiro Se non è Riuscita A superare Il terzo Giorno Ma quante Volte L'esperienza Di questi Discepoli Carissimi È la nostra Stessa Esperienza Quante Volte Anche Noi Dopo Eserci Entusiasmati Dopo Aver Sognato In grande Ci Lasciamo Cadere Le braccia Quante Volte Anche Noi Arriviamo A dire A volte In modo Esplicito A volte Soltanto Nel pensiero Non c'è Niente Da fare Non vale Non vale La pena Sognare Non vale La pena Progettare Non vale La pena Guardare Oltre Il tempo Presente E allora Viviamoci La nostra Vita Prendendo Tutto ciò Che è Possibile Perché Non si sa Dove Si andrà A finire E a volte Anche gli eventi Che capitano Sembrano Farci andare In questa stessa Direzione Questo tempo Prolungato Che stiamo Vivendo Questo tempo Che ci ha Costretto Nelle case Chissà Quante volte Ci ha fatto dire Ah Mi fossi Goduto Quel giorno Ah Avessi Preso Al volo Quella Occasione Ogni Lasciata E persa Però Questo Tempo Come il Percorso Da Gerusalemme Verso Emmaus Per i discepoli Può darci Anche un'altra Opportunità Non semplicemente Quella di Discutere E anzi Quasi di Litigare Fra noi Come stavano Facendo Quei due Discepoli Ma quella Di fare Silenzio Per poter Ascoltare Qualcuno Che si fa Nostro Compagno Di viaggio E che Rimettendoci In ordine Tutte le cose Che già Possediamo Ci offre Una prospettiva Nuova Ci offre Una luce Nuova Sulla Nostra Esistenza Sul nostro Oggi Sul nostro Ieri E anche Sul nostro Domani L'esperienza Dei Discepoli Di Emmaus Davvero Può Diventare La nostra Esperienza In modo Tale Che anche Noi Possiamo Fare I loro Stessi Passi Ci Dicono Gli Studiosi Della Scrittura Infatti Che Di Questi Due Discepoli Ci viene Tramandato Un solo Nome Cleopa Perché Nell'altro Discepolo Ognuno Di Noi Possa Mettere Il suo Stesso Nome Ognuno Di Noi Possa Riconoscersi E Quindi Appunto Fare Lo stesso Percorso Era un Uomo Il Secondo Discepolo Probabilmente Ma potrebbe Anche essere Una Donna Potrebbe Anche essere La moglie Di Cleopa Potrebbe Essere Perciò Una Coppia Una Famiglia Quella Che Ha Creduto In Gesù Quella Che Ha Scommesso Sulla Prospettiva Di Gesù Sulla Vita Come Dono Sull'amore Come chiave Per leggere L'intera Esistenza Sull'amore Come chiave Per dare Senso Alla Propria Vita E Alla Vita Del Mondo Intero E Potrebbe Essere Una Coppia Una Famiglia Quella Che si è Disillusa Vedendo Morire All'alba Del terzo Giorno Questo Sogno Ed è Proprio Accanto Alla Famiglia È Accanto Alla Coppia È Accanto A Qualunque Discepolo Che Gesù Arriva Gesù Arriva Prima Di Tutto Come Sconosciuto Quante Volte Infatti Noi Facciamo Fatica A Riconoscere Gesù Presente In Mezzo A Noi Quante Volte Anche In Questo Tempo Vedendo Passare Le Bare Dei Morti Vedendo La Sofferenza Di Coloro Che Sono In Ospedale Vedendo La Morte Di Coloro Che Hanno Dedicato La Loro Stessa Vita A Quelli Che Soffrivano Noi Ci Siamo Domandati Signore Ma Dove Sei Perché Sei Così Sconosciuto Perché Non Sei In Mezzo A Noi Perché Ci Sei Così Straniero Proprio Come i Discepoli Dissero A Gesù E Gesù Non Comincia Immediatamente A Parlare Gesù Fa Una Domanda E Inizia Ad Ascoltare Ecco Cosa Ci Insegna Gesù In Questa Domenica Fratelli E Sorelle La Necessità Di Iniziare Dall' Ascolto La Necessità Di Fare Una Domanda E Permettere All'altro Di Esprimersi Permettere All'altro Di Dire Ciò Che Ha Nel Cuore Ciò Che Pensa Gesù Fa Così Si Fa Nostro Compagno Di Viaggio Rallenta Il Suo Passo Per Non Rimanere Avanti A Noi Ma Non Tanto Da Rimanere Dietro Di Noi Rallenta Il Suo Passo Mettendosi Al Nostro Stesso Livello Facendosi Proprio Compagno Di Ciascuno Di Noi Sincronizzando Il Suo Passo Sul Nostro Affinché Possa Condividere La Nostra Vita I Nostri Passi La Nostra Quotidianità E E Allora Ecco Ecco Il Paradosso Di Questo Brano Due Discepoli Che Raccontano Al Protagonista La Sua Stessa Vita È Davvero Paradossale Immaginatevi Raccontare A una Persona Che Pensate Morta E Che Invece È Risorta Tutta La Sua Storia Compreso Il Suo Funerale Compreso Il Morire Del Sogno All'alba Noi Speravamo Ma Adesso Alcune Donne Ci Hanno Sconvolti Hanno Detto Che Non Solo È Morto Il Nostro Signore Ma Che È Risorto A Dire Il Vero Anche Gli Altri Apostoli Sono Andati Hanno Trovato La Tomba Vuota Ma Lui Non L'Hanno Visto E Allora Noi Ce Ne Stiamo Tornando Via Ed Ecco Gesù Che Dopo Aver Ai discepoli Di Esprimere Ciò Che Avevano Nella Mente E Nel Cuore Li Riprende Nella Mente E Li Riprende Nel Cuore Stolti Il Testo Originale Greco Dice Senza Intelligenza Non Avete Mente Non Avete Capacità Di Leggere Dentro Le Cose E Tardi Di Cuore Avete Il Cuore Lento Non Siete Capaci Di Vedere L'essenziale Con Il Vostro Cuore Ed Ecco Che Gesù Dopo Averli Rimproverati Però Riparte Da Capo Dal Principio Ricomincia Da Mosè Cioè Dall'ABC Ricomincia Dal Progetto Di Dio Che Parte Dall'Eternità Ricomincia Dalla Creazione Ricomincia Dalla Chiamata Alla Vita Che Dio Ha Dato Ad Adamo Ed Eva Ricomincia Dalla Chiamata All'amore Alla Libertà Che Dio Ha Fatto Per Ciascun Uomo E per Ciascuna Donna E partendo Appunto Da Mosè Passando Per Per I Profeti E per I Libri Sapienziali Gesù Arriva A Far Riconsiderare Tutta La Storia Da Una Prospettiva Nuova Gesù Arriva Ad Aprire I Loro Occhi Gesù Arriva A Scaldare Il Loro Cuore Gesù Arriva A Dare Profondità Alla Loro Intelligenza All'inizio I Due Discepoli Non Se Ne Rendono Nemmeno Conto Però È Come Se Percepiscano Percepiscono Qualcosa Che Sta Cambiando Continuano Ad Andare Avanti Quasi Per Inerzia Ma Intanto Dentro Di Loro Quella Chiave Di Lettura Nuova Che Gesù Aveva Dato Comincia A Produrre I Suoi Frutti Intanto Dentro Di Loro Quella Luce Diversa Che Gesù Aveva Acceso Comincia A Fare Chiarezza In Ogni Pezzo Della Loro Esistenza E Finalmente Il Loro Cammino Reso Più Breve Da Questo Colloquio Così Intimo Così Profondo Così Bello Con Gesù Arriva Al Termine Arrivano Al Villaggio Di Emmaus Arrivano Alla Loro Casa E Gesù Fa Come Se Dovesse Andare Più Lontano Gesù Ci fa Comprendere Che c'è un oltre La nostra Casa Che c'è un altro Percorso Da poter fare Oltre che Raggiungere La nostra Dimora Terrena E Allora Questi due Discepoli Rinnovati Nel cuore Anche se Ancora Non ne Prendono Coscienza Totale Invitano Gesù A restare Capiscono Che La presenza Di questo Uomo Non più Straniero Ma Loro Compagno Di Viaggio Non più Sconosciuto Ma Loro Fratello È Troppo Importante Capiscono Che Per dare Senso Profondo Alla Loro Vita C'è Bisogno Di Condividere La Loro Vita Con Questa Presenza C'è Bisogno Di Condividere La Loro Vita Con Gesù E Perciò Gli Dicono Resta Con Noi Signore Ormai È Sera Il Sole Sta Tramontando È Come Se Gli Dicessero Resta Con Noi Signore Perché La Luce Continui A Splendere Nel Nostro Cammino Resta Con Noi Signore Altrimenti Il Buio Torna Nella Nostra Mente Nei Nostri Cuori Resta Con Noi Signore Perché Tu Ci Hai Scaldato Il Cuore E Gesù Resta Gesù Si Fa Presente Nella Casa La Casa Che Diventa Chiesa La Casa Che Diventa Luogo In Cui Si Proclama La Parola Luogo In Insieme Il Pane Si Sperimenta L'Eucarestia Si Sperimenta La Figliolanza Comune Nei Confronti Di Dio E La Fraternità Salvifica Nei Confronti Di Gesù E Poi Cosa Accade Che Proprio Mentre Gesù Spezza Il Pane Sparisce Alla Loro Presenza Proprio Quando Gesù Si Fa Riconoscere Non È Più Fisicamente In Mezzo A Loro È Come Se Gesù Stesse Dicendo A Quei Discepoli Adesso Avete La Parola Adesso Avete L'Eucarestia Adesso Avete La Mia Presenza In Mezzo A Voi Che Siete Riuniti Nel Mio Nome Questo Vi Deve Bastare Ecco Perché È Bello Potersi Riconoscere In Questo Secondo Discepolo Dei Due Ecco Perché È Bello Immaginare Questi Due Discepoli Come Una Coppia Come Una Famiglia Perché Così Ancora Oggi A Ciascuno Di Noi Alla Famiglia Che Ciascuno Di Noi Vive Alla Famiglia Di Famiglie Che È La Nostra Chiesa Che È L'umanità Intera Gesù Può Dire Io Sono In Mezzo A Voi Mi Avete Nella Parola Mi Avete Nel Pane Mi Avete Nei Fratelli E Nelle Sorelle Sappiatemi Riconoscere Questo Vi Scalderà Il Cuore Questo Vi Darà Forza Questo Farà Di Voi Dei Risorti Ed Infatti Con Il Verbo Stesso Della Risurrezione Questi Due Discepoli Si Mettono In Piedi E Nella Notte Sono Capaci Di Fare A Ritroso Il Percorso Sono Capaci Di Tornare A Gerusalemme A Cui Avevano Voltato Le Spalle Sono Capaci Di Tornare Alla Comunità Che Avevano Abbandonato E Sono Capaci Di Condividere Con La Comunità La Loro Esperienza Abbiamo Incontrato Il Signore Come Tommaso Non si Sono Accontentati Delle Parole Hanno Voluto Realizzare L'incontro E Come Tommaso Avendo Riconosciuto Il Loro Signore Il Loro Dio Non Se Lo Sono Tenuto Per Sè Sono Andati Subito A Condividerlo Ad Annunciarlo A Testimoniarlo Ecco Allora Fratelli E Sorelle Il Compito Che Viene A Ciascuno Di Noi Da Questa Celebrazione Incontrare Il Signore Incontrarlo Nella Parola Che In Questi Giorni Forse Con Più Abbondanza Con Più Tempo Stiamo Gustando Incontrarlo Nella Celebrazione Che In Questi Giorni Stiamo Vivendo Soprattutto In Modo Virtuale Ma Nell' Attesa Di Poterla Rivivere In Modo Concreto Vitale Nelle Nostre Chiese E Nelle Nostre Comunità Incontrarlo Nella Frazione Del Pane Nell' Eucarestia Quell' Eucarestia Che In Questi Giorni Ci Sta Mancando Così Tanto Ma Quell' Eucarestia Che Cominciamo Ad Intravedere Fra Poco Meno Di Dieci Giorni Con Molta Probabilità Potremo Ricominciare A Celebrare L'Eucarestia E Potremo Ricominciare A Nutrirci Del Corpo Di Cristo Ma Anche La Presenza Di Gesù Da Riconoscere Nei Fratelli E Nelle Sorelle Nel Coniuge Nei Genitori Nei Figli Nelle Persone Che Incontriamo Condividendo La Prospettiva Da Cui Gesù Ci Spiega La Vita E Il Suo Senso Accogliendo La Luce Che Gesù Fa Scendere Di Di Noi E Sulla Nostra Storia Perché Con Quelle Cose Che Conoscevamo Ma Che Ancora Non Avevamo Comprese E Che Da Gesù Ricevono Luce Nuova Possiamo Realizzare Il Sogno Bellissimo Che Il Signore Ha Per Ciascuno Di Noi Concludo Quasi Con Pezzi Che Noi Dovevamo Ricomporre Per Vedere La Bellezza Nascosta In Quei Pezzi Che Separati Non Avevano Significato Alcuno Quelli Più Facili Li Facevamo Da Soli Quelli Più Facili Li Facevamo In Poco Tempo Ma Man mano Che I Pezzi Aumentavano Diventavano Più Piccoli E Le Difficoltà Aumentavano Avevamo Bisogno Di Sguardo Altro Avevamo Bisogno Del Papà Della Mamma Di Un Fratello Di Una Sorella Che Ci Aiutassero Ci Indicassero Una Strada Ci Aprissero Una Prospettiva Ma Quale Gioia Quando Poi Il Pazzo Si Formava Davanti A Noi Quando Il Disegno Si Completava Avevamo Tutti I Pezzi Ma Non Capivamo Con L'aiuto Di Qualcuno Li Abbiamo Messi Ognuno Al Suo Posto E Abbiamo Capito Gesù È Il Nostro Aiuto Ognuno Di Noi Può Essere Un Aiuto Per Gli Altri Abbiamo Tutti I Pezzi Non 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 Sempre Comprendiamo Alla Luce Di Gesù Con L'aiuto Dei Nostri Fratelli E Delle Nostre Sorelle Con L'aiuto Del Vescovo Di Un Presbitero Di Un Catechista Di Un Membro Della Famiglia Di Un Membro Della Comunità Possiamo Realizzare Il Disegno Stupendo Che Il Signore Ha Pensato Per Noi E Possiamo Avere Quella Gioia Grande Nel Nostro Cuore Quella Profondità Ulteriore Nella Nostra Mente Che Ci Permettono Di Superare Ogni Difficoltà E Ogni Notte Che Ci Permettono Di Vivere Da Risorti E Da Risorti Annunciare E Testimoniare Il Nostro Incontro Salvifico Il Nostro Incontro Ricco D'amore Con Gesù Il Salvatore Della Nostra Vita D'amore Rinnoviamo La Nostra Fede Nel Signore Morto E Risorto Per Noi Nel Signore Che Ci Ha Donato Lo Spirito Che Ci Offre Intelligenza E Cuore Per Superare Le Difficoltà E Dare Senso Alla Nostra Esistenza Credete In Dio Padre Onnipotente Creatore Del Cielo E Della Terra Credete In Gesù Cristo Suo Unico Figlio Nostro Signore Che Nacque Da Maria Santissima Morì E Fu Sepolto E Risuscitato Dai Morti E Siede Alla Destra Del Padre Credete Nello Spirito Santo La Santa Chiesa Cattolica La Comunione Dei Santi La Remissione Dei Peccati La Risurrezione Della Carne E La Vita Eterna Allora di volta in volta ripetete con me Questa è la nostra fede Questa è la fede della Chiesa E noi ci gloriamo di professarla In Cristo Gesù nostro Signore Amen Fratelli e sorelle Il percorso dei discepoli che tornano ad Emmaus è anche il nostro Cristo cammina con noi e ci accompagna aprendoci la mente e riscaldandoci il cuore Mentre in questa Eucarestia spiega le scritture e spezza il pane con noi ci rivolgiamo a lui con fiducia e insieme preghiamo dicendo resta con noi Signore Signore Gesù che cammini con noi nella vita di tutti i giorni e che oggi spezzi per noi il pane dell'Eucaristia Doneci la grazia di aprire i nostri occhi e di riconoscerti come fecero i due discepoli di Emmaus Noi ti preghiamo Resta con noi Signore Signore Gesù rendici capace di riconoscerti in chi ci guida nella fede Il Papa, i vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate Nonché in tutte le persone che ci poni accanto Specialmente i nostri familiari e amici noi ti preghiamo Resta con noi Signore Signore Gesù Spesso sentiamo il peso della fatica e dell'innocenza nei drammi del mondo e nelle scelte personali Concedici di guardare sempre al vero bene la vita, la libertà religiosa, la famiglia, l'educazione Noi ti preghiamo Resta con noi Signore Signore Gesù Nella giornata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Ti chiediamo che i ragazzi e i giovani Possano incontrare educatori capaci di trasmettere loro il senso vero della vita Nell'apertura a Dio e al prossimo Noi ti preghiamo Resta con noi Signore Signore Padre Santo Affidiamo a te queste preghiere che ti abbiamo espresso E a te affidiamo anche quelle che sono nel cuore di ciascuno di noi E di ogni persona che oggi ti vive presente attraverso le telecamere Seguendo questa messa da Telemax Tu conosci ciò che è nel nostro cuore Tu conosci ciò che è nella nostra mente Se queste preghiere sono secondo la tua volontà Accoglile ed esaudiscile Manda con abbondanza su di noi il tuo spirito Spirito di intelligenza e sapienza Spirito di coraggio e di fortezza Perché come Pietro Come i discepoli di Emmaus Anche noi possiamo metterci in piedi E a voce alta Testimoniare con la vita e le parole Il nostro incontro con te Con te che ci hai dato luce nuova per la nostra vita Con te che ci hai donato un senso nuovo per la nostra esistenza Con te che hai dato significato ai pezzi che componevano la nostra vita E che noi non sapevamo ricomporre Te lo chiediamo Attraverso l'intercessione di Maria Madre di Gesù e Madre nostra E per lo stesso Gesù Cristo Tuo Figlio e nostro Signore Amén Amén Ecco il tuo posto, vieni, vieni a sederti fra noi e ti racconteremo la nostra storia. Quanto amore nel seminare, quanta speranza nell'aspettare, quanta fatica nel mietere il grano e vendemmiare, e vendemmiare. Accanto al fuoco vieni, vieni a scaldarti con noi, tutti divideremo pane e vino. Quanto amore nel seminare, quanta speranza nell'aspettare, quanta fatica nel mietere il grano e vendemmiare. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle Tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni della Tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo, nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Prendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E' veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la Terra, e con l'Assemblea degli Angeli e dei Santi, canta l'inno della Tua gloria. Santo, 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 Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. O sanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Padre veramente santo, a Te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a Te un popolo che da un confine all'altro della Terra offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Grazie. Dopo la cena Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Annunciando la morte, Signore, proclamiamo la Tua resurrezione nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale del Tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della Sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della Tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del Tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a Te gradito perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i Tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con Sant'Ommaso e gli Apostoli, i gloriosi Martiri, Santa Lucia Filippini e tutti i Santi, nostri intercessori presso di Te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la Tua Chiesa pellegrina sulla terra, il Tuo Servo e nostro Papa Francesco, me indegno Tuo Servo, il Collegio dei Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e il popolo che Tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla Tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della Sua vita immortale. Ricongiungi a Te, Padre misericordioso, tutti i Tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel Tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con Te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della Tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale Tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amo. La nostra vita ha un senso, anche se deve attraversare molte notti, molti deserti, molte situazioni difficili, perché è la vita di figli che confidano in un Dio che è loro Padre e che ha mandato il suo Figlio, Gesù, perché ognuno di noi e tutta quanta l'umanità e la Chiesa potessero essere salvati. Confidando in questo progetto di salvezza e di amore, confidando in Gesù, risorto, vincitore della morte, e con le sue stesse parole rimettiamo la nostra vita nelle mani di Dio, nostro Padre. Padre nostro, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il Bello, tu ha la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Nello Spirito di Cristo risorto, che mette luce nei pezzi della nostra vita, con un sorriso, un inchino, un gesto del corpo, scambiamoci un gesto di pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla Tua menza, ma di soltanto una parola e il mio salossero. Grazie. Grazie. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Resta con noi, non ci lascia, la notte mai più scenderà. Resta con noi, non ci lascia, per le vie del mondo, Signore. Resta con noi, non ci lascia, la notte mai più scenderà. Resta con noi, non ci lascia, per le vie del mondo, Signore. Preghiamo. Preghiamo. Resta con noi, non ci lascia, la notte mai più scenderà. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amén. Glorifichiamo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Grazie a Dio. Alleluia. Alleluia. Ora pro nobis Deo. Alleluia. 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 Alleluia.